Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vedete oggi è la terza maglia della Juventus in edizione Player. La terza maglia da calcio Adidas Juventus 2022-23 introduce un design schargiante in rose e blu, dominato da un motivo grafico astratto all over e caratterizzato da loghi sia bianco, Adidas e Juventus, che blu, Jeep. La colorazione ufficiale della terza maglia è Collegial Royale, Acid Red, White. Un semplice girocollo blu e pannelli blu sotto le manche completano il look insieme a tre strisce bianche poste sulle spalle. La terza maglia Juventus 2022-23 si completa con pantaloncini e calzettoni blu o bianchi. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità, più aderente rispetto alla versione Fan, è progettata per il fisico dell'atleta. A me piace, nella mia classifica questa prende 4 stelle. Amo le maglie un po' fuori dagli schemi e questa devo dire che secondo me è molto bella. Peraltro l'avevo già vista in edizione Fan, trovate qui in alto la recensione, ho deciso di rivederla per vedere se c'erano delle differenze. Il costo lo vedete qui sopra, che per questa maglia è veramente molto basso, tra l'altro di un'ottima qualità con dei tempi di spedizione così veloci. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, quindi andate sul sito a vedere questa e altre bellissime maglie. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.